Hey! Ciao! Ciao ragazzi! Allora, oggi, in questo video, mangerò delle caramelline, sperando di rilassarti. Rilassarti, rilassarti, rilassarti. Io spero che questi suoni ti piacciono, quindi ti auguro una buona visione e un buon rex. Ciao! 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 sembra che non finisca più è molto bello tutte queste gramelle mi ricordano un po' il gusto dell'infanzia quando adoravo mangiare quelle caramelline gommose in forma di lumbrico una cosa del genere insomma cosa molto libera adoro questa a bollere un gusto di limone è dolce ma allo stesso tempo aspra a bollere a bollere a bollere a bollere Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 e tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.